Siamo una famiglia anche noi, una famiglia dei frati del Santo, colpita così duramente questa volta per la perdita di Padre Enzo, che certamente, diciamo, inaspettata, ci priva veramente di una persona che era non solo amata, benvoluta, ma aveva anche delle buone doti, capacità di relazione e con noi, ma in particolare anche all'esterno. Le relazioni della Basilica con la città sono state molto curate da Padre Enzo e questo tutti lo riconoscono. Era una persona che sapeva relazionarsi, rapportarsi con tutti, dai grandi ai piccoli, senza fare distinzioni.